ciao a tutti benvenuti sul canale di luna prima di continuare però voglio ricordarvi di iscrivervi e attivare la campanella per restare aggiornati con il nuovo video che io non brucherò e adesso vi lascio il mio video buona visione a tutti amici ciao a tutti amici voi trovate sul canale di luna cominciamo oggi la nostra cazzatina con il numero di fortunati questo è il numero 9 della serie 76 buona visione a tutti finiamo guardiamo un po va bene così è troppo no non so di no vostra luce non è buona ok così va meglio ok allora primo numero abbiamo 14 14 eccolo poi abbiamo il 75 65 non c'è che 64 16 15 abbiamo 28 eccolo continuiamo con 27 ok 20 20 non c'è abbiamo 22 ok ultima giocata e 64 anche ultima giocata abbiamo 54 non c'è 74 ok 11 71 non c'è 78 non c'è 48 non c'è 40 non c'è 76 ultima possibilità 42 e c'è preso in giro questo buglietto che però non c'è 49 non c'è 49 non c'è il numero 9 non è buon tempo amici passiamo un portafortuna mini numero 4 della serie 64 allora abbiamo lingotto monete forziere e puntolone vediamo un po primo simbolo primo simbolo c'è la perla per noi poi c'è il sole i soldi e il ferro che non c'è abbiamo arco baleno l'elefante e l'elefante diamante e tartaruga niente per 2 abbiamo l'anello e per 5 abbiamo la corona niente il buglietto numero 4 non è buon tempo amici passiamo un turista per 10 anni numero 42 della serie 8 e vediamo le barchette ci dicono 13 31 17 e 20 primo numero abbiamo 18 abbiamo 38 un turista abbiamo 30 e 26 niente 35 21 25 45 ultima possibilità 46 niente il buglietto numero 90 amici il numero 42 passiamo a mamma non mamma numero 29 della serie 39 allora il buono se abbiamo gli occhiali rimuovetelo chitarra arcobaleno arcobaleno nota pennello primo cuore secondo cuore cassetta parfalla terzo cuore mano pace smile questo è un disco questo è un disco ed il fiore e non te lo pare amici abbiamo tre cuori e niente occhiali adesso abbiamo una battaglia navale numero 40 della serie 16 commutato cucano un po' ok prima coordinata abbiamo A4 acqua E7 H7 B1 C7 C1 A1 Una barchetta l'abbiamo presa Abbiamo B4 D3 Acqua Ultima ordinata B6 Peccato non ci ha dato questo D7 Ci da B6 Niente da fare Comunque abbiamo preso una barchetta Vediamo un po' che ci dice 10 euro Bene Meglio di 5 E' il primo recupero Unico recupero di oggi Cosa abbiamo grattato? Un bulletto da 5 Bulletto da 5 Poi abbiamo grattato 2 da 3 E 2 da 2 Unico recupero L'abbiamo fatto Con la battaglia navale 10 euro Ok amici Meglio di niente Siamo contenti così Grazie a tutti per la missione Vi do appuntamento al prossimo video Condividete Iscrivetevi al pollo Ciao a tutti Un bacio un abbraccio Alla luna Ciao Al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti